Il cimitero comunale di Punta Lazzo sarà presso dotato di illuminazione votiva, grazie all'impegno di spesa di poco meno di 2.000 euro e all'interrogazione fatta dal vicepresidente del Consiglio Alberto Cardillo. Il cimitero di Mascali e la sua illuminazione votiva invece saranno potenziati e le luci rotte sostituite. L'argomento cimitero a Mascali è poi stato oggetto nei giorni scorsi di critiche da parte dell'opposizione comunale, che ha lamentato l'incuria dell'aria dedicata a dei fonti, la presenza di arpacce ed arpusti nei viali. Abbiamo dovuto in questi giorni spostare gli operai affinché lavorassero al parco pubblico per accogliere tutta la gioventù di quest'area cese. E' ovvio che questo ci ha fatto trascurare il cimitero, ma già oggi che abbiamo finito, già oggi che ci sono i ragazzi qui, l'operaio è al cimitero e sta continuando a pulire il cimitero. Questo è il futuro nel nostro territorio, ma avviene attraverso queste istituzioni e non sicuramente attraverso stierili critiche che vanno fatte attraverso le tv, solo per invangare un paese che sta lavorando. E queste persone hanno la miopia di vedere solo queste piccole cose che poi non sono il trascurare di cose comunque importanti come il cimitero, ma è soltanto privilegiare i ragazzi in certi momenti perché è necessario. Effettivamente oggi c'è un impegno concreto, c'è la determina di impegno con la quale vengono imputate 1700 euro per mettere in funzione l'impianto d'illuminazione nel cimitero Punta Lazio che non ha mai funzionato, da circa 15 anni erano state installate le lampioni che non hanno mai funzionato, finalmente funzioneranno. E poi il ripristino dell'illuminazione mancante nel cimitero di maschera è un altro intervento importante. Io sottolineo particolarmente il risultato della sistemazione dell'impianto d'illuminazione di Punta Lazio, non perché sia un qualcosa di eccezionale, è un intervento che rientra nella normalità dell'attività amministrativa di una buona amministrazione. Però è sintomatico di quello che si sta facendo da un anno a questa parte, restituire alla normalità questa comunità, restituire il diritto alla normalità soprattutto alle frazioni, alla comunità montane che per anni si sono sentite abbandonate, distante dal centro amministrativo. Con questi piccoli interventi, uno dopo l'altro, cercheremo di ricreare una comunità mascalese che si senta attenzionata dall'amministrazione centrale.